Extra time, dunque ballottaggi a Manfredonia, San Giovanni Rotondo e San Severo, l'unico comune superiore ai 15.000 abitanti che legge al primo turno il sindaco e quello di Torremaggiore, dove a spuntarla nettamente è stato Emilio Di Pumpo, candidato della coalizione di centrosinistra. Si tratta di una riconferma in una competizione in cui il verdetto finale ha detto che non c'è stata praticamente partita. L'incertezza più grande è stata invece quella che ha caratterizzato lo spoglio di San Severo, dove l'avvantaggio del centrosinistra non è stato sufficiente ad evitare i tempi supplementari al candidato Angelo Masucci, con una gara voto a voto e poco scarto, tra le altre due candidate Lidia Colangelo, di Fratelli d'Italia ed altre civiche, e Anna Paola Giuliani, rappresentata e sostenuta da Udc più alcune liste civiche. Un po' più staccata Rosa Caposiena, sostenuta invece da Forza Italia e da due liste civiche. Alla fine sarà sfida a due, tra due settimane, tra Masucci e Lidia Colangelo. Balotaggio anche a San Giovanni Rotondo, dove è stato un testa a testa tra il sindaco uscente Michele Crisetti, del centrosinistra, e Filippo Barbano, sostenuto tra gli altri dal Movimento 5 Stelle. Fuori dai giochi, la candidata della coalizione di centrodestra, Floriana Natale. E secondo turno anche a Manfredonia, dove il candidato del centrosinistra, Domenico Lamarca, è stato il più suffragato, ma non è bastato per l'elezione al primo turno. Va al Balotaggio Lamarca, dove tra due settimane sfiderà il candidato del centrodestra, Ugo Galli. Gli altri verdetti, sorpresa a Troia, dove è stato eletto Francesco Caserta, sono ora sconfitta per l'uscente Leonardo Cavalieri, candidato del centrosinistra, e festa grande nel quartier generale del neosindaco, come si vede dalle immagini. Analisa Lisci è invece la nuova sindaca delle isole Tremiti, abbattuto Roberto Calabrese, nipote dell'ex sindaco, scomparso prematuramente circa un anno fa. A Carlantino è stato riconfermato il sindaco Graziano Coscia, Vincenzo Zibisco è stato rieletto sindaco di Voltura-Rappula, il comune che ha dato in Natalia l'ex premier Giuseppe Conte. Nuovo sindaco anche a Volturino è Giovanna Santa Croce. A Biccari è stato invece eletto Antonio Beatrice, a Deliceto confermato Bizzarro. Il sindaco uscente ha battuto l'ex vice sindaco e assessore al comune di Foggia Francesco D'Emilio. A Castelnuovo della Daunia non c'erano dubbi sull'elezione di Guerino De Luca, unico candidato. Appoggio imperiale invece a spuntarla è stato Alessandro Ligeri che ha sconfitto De Carolis e l'uscente d'Aloiso. Ad Apricena infine Antonio Potenza è stato riconfermato sindaco, battuto il candidato di centrosinistra Zuccarino. Per Potenza si tratta del terzo mandato di fila da sindaco nella città dei Marmi.